C'è un ragazzo in spiaggia che cammina in costume, a un certo punto incontra un amico suo, con due pischelle vicino bellissime. Insomma, se metto una chiacchiera con lui fa così, ma come fai tu? Stai sempre con quelle belle ragazze, ma c'hai un segreto, dimmelo. Allora con lui fa, c'ho un segreto così, fa una cosa, quando vieni al mare, ti mette una patata dentro al costume, bella grossa, poi ti fai da passeggiata sul bagnasciuga e vedrai che ti marchi pure te. Con lui fa, ma davvero, mo ci provo subito. Insomma, questo fa così, passano alcuni giorni, a un certo punto tu aveva la spiaggia e rincontra l'amico suo, sempre pieno di donne quello lì e lui un'altra volta da solo. Allora lui fa così, io me la son messa la patata nel costume, ma com'è che non funziona? L'amico suo tu guarda che fa così, ma davanti te la ti metti.